Ragazzi e ragazze vi do il benvenuto a Sugar Stream Drums. Nel video di oggi voglio andare a parlare di registrazione della batteria elettronica perché qualche tempo fa è uscito un video sulla registrazione della batteria acustica con due o con quattro microfoni. Nei commenti mi avete scritto in tantissimi dicendomi sì ma come faccio a registrare la batteria elettronica? Quindi nel video di oggi voglio spiegarvi come registrare la batteria elettronica in due modi diversi perché la batteria elettronica si può utilizzare e registrare in un modo abbastanza normale diciamo tra virgolette quindi molto simile a quello del video precedente mentre c'è anche un secondo modo che non tutti conoscono perché è un po' più tricky, un po' più difficile e quindi vi voglio spiegare anche questo. Per questo video voglio ringraziare strumentimusicali.net perché mi ha mandato questa bellissima TD17 di Roland mi ha mandato il mixer che ho già utilizzato anche per l'altro video perché il mixer è lo stesso si può utilizzare lo stesso mixer dell'altra volta che è un Berig 4 canali super semplice e economico che funziona bene anche perché ha i pre Midas quindi sono degli ottimi pre, fanno uscire un buon suono quindi con questo grazie mille strumentimusicali.net io mando la sigla, vi dico due cosine al volo e partiamo. Allora primo modo di registrare la batteria, primo modo con un mixer, dei cavi e la nostra batteria ovviamente ho sentito un suono e era la batteria in cuffia non capivo mi sono un attimino spaventato ovviamente servirà anche un software per il computer vi ricordo che io uso Logic ma qualsiasi software va bene direi andiamo direttamente alla batteria e vi faccio vedere questo primo modo poi torniamo qua dopo per vedere il secondo che come vi ho detto è un pochettino più strano eccoci qua alla batteria, primo modo per registrare, registriamo proprio l'uscita della batteria ogni modulo di alle batterie elettroniche ha un'uscita L e un'uscita R cioè le uscite left e right, sinistra e destra queste due uscite che di solito si trovano nella parte dietro del modulo ma comunque si trovano sempre sul modulo delle batterie elettroniche dobbiamo inserirle nel canale 1 e nel canale 2 della mia scheda audio del mio mixer in questo modo noi abbiamo collegato la batteria, ho perso una bacchetta, dove è andata? oh, ah qui quindi collegate, siamo pronti per fare i gain quindi per fare i gain, vi ricordo ve l'ho già spiegato nell'altro video come funzionano i gain quindi non sto a farvi tutto lo spiegone, se avete bisogno di sapere tutta questa parte specifica trovate il link sulla registrazione qui sotto in descrizione andiamo direttamente sulla nostra DAW, sul nostro software, dove ho già creato due canali audio audio, questa cosa è importante, canali audio Roland SX, cioè Roland sinistra e Roland destra allora dobbiamo andare a vedere i gain sia di uno sia dell'altro canale quindi se io ho collegato il canale 1 e 2 i nostri gain si faranno da questi pombellini 1 e 2 in questo caso non dovrò molto probabilmente dopo andare a modificare troppo i suoni della mia batteria elettronica perché la batteria elettronica alla fine ha già un suono processato quindi volendo posso stare anche un pochettino più su come gain picco massimo oggi possiamo mettere meno 5 vi ricordate l'altra volta vi dicevo meno 12 adesso possiamo stare anche un pochettino più su quindi meno 5 proviamo a vedere se suoniamo che cosa succede, come si sente adesso i gain sono a caso ok, già suonando rullante possiamo capire che un canale è più alto dell'altro quindi andiamo a fare un canale per volta clicchiamo su Roland SX, quindi canale sinistro quindi entrata 1 dovremo andare a girare questo pombellino quindi suoniamo rullante quando arriva verso il meno 7 ci stoppiamo perché così poi suonando tutti insieme dovremmo arrivare più o meno a meno 5 suoniamo solo rullante ok, siamo arrivati circa a meno 9 meno 8 vediamo un po' cliccando qua meno 7 perfetto quindi se io vado a suonare la mia batteria vediamo quanto sale meno 3,7 siamo un po' al limite perché non bisogna assolutamente arrivare a zero quindi lasciamolo un filino più giù l'altro invece vediamo un attimo quindi clicchiamo su Roland DX con questo sicuramente siamo già troppo su facciamo così per tranquillità clicchiamo su pad così mi da meno 20 db e andiamo su riclicchiamo qua per vedere a quanto siamo meno 7 tiriamolo un filino giù vediamo un po' se svegliano tutto più o meno direi che ci siamo possiamo tirare per sicurezza ancora un filino giù tutte e due e siamo a posto così non rischiamo proprio per niente perché vedevo nello stereo out che è la somma di tutte e due che arrivavamo un po' sopra lo zero quasi a zero quindi a questo punto la cosa da fare è molto semplicemente registrare quindi la nostra batteria le nostre uscite è come fossero due microfoni alla fine quindi clicchiamo su REC e possiamo registrare quindi come avete potuto vedere c'è la forma d'onda della mia batteria io posso andare a sentirla tranquillamente basta schiacciare play e sento la mia batteria che ho appena registrato quindi questo è un modo veramente 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 interessante di suonare la batteria più che altro perché se poi io voglio cambiare il mio suono della batteria adesso io avevo Big Wood Shell ma se voglio cambiarlo e andare a che ne so una roba strana vediamo un po' ELECTRO registriamo un pezzo ho registrato la mia batteria elettronica se vado a sentirla sento ovviamente il suono della mia batteria elettronica quindi questo è il primo metodo per registrare la batteria elettronica e registrare soprattutto questo suono di batteria elettronica quindi in questo caso vado a registrare proprio lei direttamente quello che esce dall'uscita LR ovviamente poi c'è la possibilità con alcuni moduli più avanzati di registrare anche traccia per traccia alcuni moduli hanno la possibilità di avere tutte le uscite di ogni pezzo in modo tale da registrare multitraccia proprio come una batteria acustica quindi avrete l'uscita rullante l'uscita tom l'uscita timpano l'uscita piatto l'uscita cassa eccetera e potete registrare tutto separato qui dovete prima farvi un buon mix in cuffia o comunque nell'impianto fare un buon mix come volumi poi andare a registrare direttamente l'uscita e registrare tutto insieme non avrete la possibilità ovviamente di fare troppo sulle tracce lavorarle troppo perché state lavorando su tutta la batteria ma comunque potete decidere di fare un mix o magari aumentare un po' le basse diminuire le medie eccetera lavorare in generale su tutta la batteria eccoci tornati in questa posizione per il secondo modo per registrare la batteria elettronica ho il taglierino in mano ho un pacchetto di strumenti musicali .net che non pesa niente perché per fare questa cosa mi sono dovuto far mandare una cosuccia che adesso vi faccio vedere come si apre cavettino USB-C MIDI il MIDI è quello che utilizzeremo per andare a registrare oggi avete presente quando vedete tutte quella specie di tastiera con tutti quei quadratini probabilmente state vedendo qualcosa adesso di quella tipologia lì quello è il MIDI quindi non sto a spiegarvi troppo cosa sia come funzioni eccetera ve lo spiego dopo l'unica cosa che vi dico è che dovete andare a collegare questo cavo MIDI a un'uscita dietro al vostro modulo non tutte le batterie hanno l'uscita MIDI quindi Ocio però questa TD17 ce l'ha quindi andiamo a collegare il MIDI questo cavetto nel MIDI Out e quest'altro cavetto USB-C nel nostro computer ovviamente ci sono varie tipologie di cavo MIDI USB normale MIDI USB-C eccetera dipende dal computer che avete ragazzi siamo tornati alla batteria ma vi ho detto una cavolata cioè vi ho detto tutto giusto nel senso che il cavo MIDI funziona in questo modo e si attacca direttamente al computer eccetera ma ho sbagliato a comprare il cavo MIDI e ho sbagliato e ne ho preso uno troppo piccolo quindi il cavo MIDI non va bene ma abbiamo la possibilità di farlo anche in un altro modo che magari per alcuni potrebbe essere più semplice perché questo modulo qua ha anche l'uscita USB di tipo B quindi di quello tipo delle stampanti uscendo da questo USB si va direttamente all'interno del computer all'interno del software e non in questo modo sia comunque col cavo MIDI sia col cavo USB tanto funziona nello stesso modo per la registrazione non si ha bisogno non abbiamo bisogno della scheda audio del mixer quindi ancora più economica come cosa allora adesso andiamo qui andiamo lasciamo pure queste cose che avevamo registrato scusatemi se mi devo girare però ho il computer di qua quindi andiamo a creare un nuovo canale non audio ma stavolta software instrument create tutte le DAW ce l'hanno questa possibilità qui ci dice di andare a scegliere uno strumento tra quelli che ci sono io non ne ho scaricati molti ma di batteria ne ho una questa batteria qua SoCal SoCal non lo so e comunque allora adesso vi faccio vedere una cosa qui è in registrazione con il mio cavo usb attaccato alla batteria se io vado a suonare si sente la batteria e fin qua tutto bene il problema è questo c'è una cassa se io suono solo pelle cassa se suono rimshot rullante allora questo è da impostare perché che cos'è il MIDI allora il MIDI sono degli impulsi quindi la batteria semplicemente tramite le pelli tutti i pad dal modulo va a dare degli impulsi al computer che li rileva quindi lui rileva tutti impulsi diversi dalla nostra batteria e va a trasmettere al computer il computer questa volta non registrerà la nostra batteria acustica ma andrà a dare tramite questi impulsi dei suoni a una batteria che imposteremo in questo caso la batteria che abbiamo deciso è l'unica in realtà che avevo ma poi ce ne sono tantissime potete scegliere scaricarle eccetera è questa qua quindi io posso andare in realtà a decidermi il suono della batteria che è questo vedete che è lo stesso ride quindi in pratica io sto utilizzando questa batteria come impulso come trigger per andare a suonare la batteria che c'è sul mio software il problema qual è? il problema è che succedono queste cose qua qui l'impulso che io do tramite il rullante va a finire nel software e viene letto come cassa allora come posso fare a ovviare a questo problema è il tutto da impostare quindi io vado su quello che viene chiamato piano roll che è un insieme diciamo una tastiera con tutti i suoni possibili che ho da questa batteria sul computer e vado a vedere dov'è il mio rullante allora come potete vedere quando suono rullante su c1 questa nota qua che sarebbe do 1 è come se stessi premendo quel c1 quando suono la cassa anche cosa vuol dire? vuol dire che sia il rullante sia la cassa hanno impostata come nota di uscita midi che comunque sia midi sia usb comunque stiamo parlando sempre di midi la nota c1 la cassa è giusta perché la cassa è nel punto giusto a rullante a rullante dovrò andare a cambiare la mia nota quindi se io vado sul mio modulo lo faccio direttamente dal modulo questa cosa vado a prendere allora facciamo così andiamo su un un set normale anche se non cambia niente perché il set in questo caso non c'entra niente il modulo mi serve solo come impulso ve lo ricordo per il computer clicchiamo qui su other poi ovviamente ve lo faccio vedere per questa batteria ogni batteria ha la sua ma clicchiamo su other andiamo giù 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 midi note come potete vedere qua clicchiamo su midi note e questa volta vedete snare abbiamo 38 il midi ha 127 note che vanno da 1 a 127 come potete vedere sia kick sia snare sono C2 allora qui ogni tanto può succedere questo problema nel senso che qui io ho kick e snare come C2 mentre sul mio software kick e snare in questo caso sono su C1 quindi in pratica vuol dire che sono sfalzati D1 statici attenti a questa cosa ma si può fare tranquillissimamente lo stesso io l'ho scoperto adesso su questa batteria dipende però nulla di troppo grave se io adesso vado a spostare snare ad esempio su D2 come potete vedere qui e come potete vedere anche sulla Do C D ho il mio rullante quindi posso suonarlo di qua posso suonarlo di qua è uguale impostiamo tutto e poi vi spiego bene allora anziché mettere cose a caso qua andiamo a vedere sulla nostra Do a quale nota corrispondono i nostri pezzi della batteria allora perché C notazione anglosassone delle note Do Re Mi Fa Sol La Si in notazione anglosassone C D E F G A B le stesse note ma viste con queste lettere qua quindi noi avremo C1 D1 che sarà snare che l'abbiamo già impostato poi in realtà avremo anche da impostare snare rimshot che sarà C D E1 e sfalzando infatti come possiamo vedere qua abbiamo E2 come rim il crostic lasciamolo stare tom 1 ce l'abbiamo su C3 quindi qui sarà C2 eccolo qua il tom 2 ce l'abbiamo su A2 quindi sarebbe A1 in questo caso quindi C D E F G A e poi il floor ce l'avremo su G2 infatti come potete vedere qua abbiamo anche la possibilità di cambiare il rim quindi se io il timpano voglio farlo suonare con la pelle da timpano e il rim da qualcos'altro ad esempio il rim voglio che suoni vediamo qua che cos'è ride bell ride bell voglio mettere ride bell sul bordo del mio timpano quindi ride bell che cos'è C2 C3 C4 no C2 D2 C D E F sarà F2 quindi sfalsando questa cosa qua F3 tom 3 rim mettiamogli F3 vediamo se funziona visto qui suona come ride bell questo è solo un esempio però abbiamo il doppio suono gestibile come vogliamo quindi dovete andare a vedere a cosa corrisponde sulla tastiera il suono che volete e poi andare a impostare sul modulo la stessa nota a ogni pad è una cosa che ci vuole un attimino all'inizio di tempo per capirla poi sarà super semplice soprattutto se salvate soprattutto se salvate le cose del modulo ce l'avrete a vita quindi vado a impostare tutto e arrivo ok ho finito di impostare tutto abbiamo la batteria con ogni pezzo al suo posto compreso il chalesson col piede sentite qua tutto è al posto giusto il suono vi ricordo non è dato assolutamente dalla batteria dal modulo ma è dato dal computer il modulo dà solo l'impulso che diamo tramite i vari pad che abbiamo impostato allora la cosa da fare adesso sarà quella di andare a provare a registrare quindi rimaniamo sul piano roll che è questa cosa qua e andiamo mettiamo in muto quello che abbiamo fatto prima con l'audio se no parte anche lui e andiamo al piano roll l'abbiamo detto e andiamo a registrare vediamo che cosa succede ecco qua allora come avete potuto vedere io ho dei tutti dei quadratini che sono quei quadratini di cui vi parlavo all'inizio quando vi ho spiegato del MIDI questi quadratini sono gli impulsi che il modulo va a dare alla mia batteria quindi se io vado a risentirla è perfettamente quello che ho suonato ma fatto con questi vari impulsi qua la figata di questa cosa è che se voi andate a suonare qualcosa più piano qualcosa più forte qui ho suonato tutto abbastanza forte ma vi rileva sia l'impulso sia la dinamica dell'impulso quindi ad esempio se io vado a registrare una parte una parte nuova con il piano roll andiamo a registrare di qua sentite qua allora ho sbagliato qui ho tenuto il bordo così quindi ogni tanto se prende un po' di bordo suona in modo strano ma in realtà adesso vi faccio vedere come mettere a posto questa cosa al volo che si può fare solo col midi allora prima cosa vi stavo parlando di dinamica prima quindi come potete vedere ci sono alcuni punti più chiari finché arriva a punti più scuri il punto più chiaro è più basso di dinamica il punto più scuro è più alto di dinamica vedete questa è una figata perché appunto io ho perfettamente oltre all'impulso la dinamica la potenza di quello che sto suonando quindi è veramente ottimo allora guardate qua una cosa bella del piano roll cioè del fatto di registrare in questo modo qua anzi ci sono un po' di cose che si possono fare per prima cosa guardate il colpo questo ha preso un colpo doppio vedete che ci sono due quadratini io clicco elimino il quadratino e il problema l'ho risolto quindi questa è una roba veramente fighissima perché potete registrare se c'è un minimo problema lo potete non dovete riregistrare tutto riregistrare tutto ma andate a togliere il problema o a inserire volendo anche un quadratino perché poi ad esempio se voi qui volevate andare a suonare ancora un colpo ma lasciare un po' di pausa voi potreste prendere la matitina in questo modo qua che su logic è qui pencil andare a suonare diciamo tra virgolette un colpo con il mouse decidere la velocità cioè la velocity non è la velocità scusate ma la dinamica e aggiungere un colpo tranquillamente oppure altra cosa molto interessante è questa abbiamo un problema con il timpano il problema che vi ho fatto vedere prima cioè questo in quei due punti ho preso il bordo allora vado sulla mia do faccio così questi sono i miei colpi di charleton sbagliati la mia riga del timpano è questa qua io basta che prendo questi due colpi li porto su e sono diventati tutti i timpano quindi è veramente una cosa super 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 pazzesca questa e più che altro non avete bisogno di scheda audio non avete bisogno di nulla se non di una batteria elettronica un cavo midi usb usb oppure usb di tipo b usb e potete fare tranquillamente questa cosa potete mettervi un click suonare a click e poi andare magari a vedere se queste se le note sono perfettamente a tempo oppure no e se avete bisogno di essere super perfetti volendo potete fare l'editing andando a spostare magari dei colpi sul click o mettendoli un po' a tempo se magari avete suonato una canzone tutta perfetta tranne un colpo perdete quel colpo fatto dal quadratino lo spostate e siete a posto altra cosa molto interessante è questa che voi avete registrato tutto e lo ascoltate allora ascoltate e a parte il colpettino anche qua di timpano che volendo come abbiamo visto si potrebbe mettere a posto in un secondo noi possiamo andare tranquillamente sul nostro mixer del computer in questo caso io uso drummer di logic ma anche qua ci sono varie possibilità possiamo andare a scegliere un rullante diverso io voglio questo rullante qua clicco imposto rullante vado a sentire e in questo modo io mi sono creato un altro suono di rullante che ho deciso perché non mi piaceva quello di prima mi piace quello che c'è adesso ho cambiato il rullante direttamente dal programma e finito cioè e ho già registrato tutto con l'altro rullante quindi non è che devo fisicamente prendere un altro rullante registrare di nuovo la stessa parte bene e poi vedere se funziona lì col piano roll è una figata con il midi eccetera è una figata perché come vi ho detto questa dà solamente l'impulso il resto lo fa il computer attenzione perché adesso qualcuno potrebbe pensare sì ma allora va bene qualsiasi elettronica basta che abbia l'uscita midi tolgo le cuffie più o meno nel senso che sì potrebbe andare bene qualsiasi batteria elettronica ma se volete una batteria che abbia degli impulsi affidabili e soprattutto una dinamica affidabile poi questa è una cosa molto interessante perché altrimenti se non ci fosse la dinamica suonerebbe sempre tutto piatto allora avete comunque bisogno di una batteria di un livello non troppo 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 basso non sto dicendo di andare su batterie super di livello ma una batteria del genere secondo me è perfetta in questo modo potete registrare appunto senza niente con la vostra batteria andare a modificare i colpi che volete andare a decidere i suoni che volete e siete a posto io ho registrato un po' di cose in questo modo e devo dire che è molto comodo non dico che sia meglio o peggio perché per alcune cose sicuramente è meglio registrare la batteria normale ma per alcune altre soprattutto in alcuni generi questo modo qua vi salva la vita quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi abbia aperto un po' di nuove porte per la registrazione della batteria fatemelo sapere qui sotto nei commenti fatemi sapere qual è la registrazione la tipologia di registrazione che vi è piaciuta di più vi chiedo scusa se questo video è stato un po' lunghetto ma avevo un po' di cose da spiegarvi soprattutto la questione del midi del piano roll dei blocchetti che ci sono sul computer quelli che ci dicevano i vari suoni gli impulsi eccetera eccetera c'era un po' da dire spero vi sia stato utile fatemi sapere se è stato così qui sotto nei commenti se avete domande di qualsiasi tipo perché capisco che sia un argomento un pochettino strano scrivetemelo qui sotto sempre nei commenti e basta tutto quello che ho utilizzato oggi a parte il mio computer e la DAW lo trovate su strumentimusicali.net che ringrazio per avermi mandato tutto quanto devo dire che questa batteria qua è veramente una bomba la consiglio assolutamente sia per quanto riguarda l'audio della batteria sia per quanto riguarda gli impulsi di cui vi ho parlato perché è praticamente perfetta si perde pochissimo e con una batteria elettronica ogni tanto ci sta questa cosa che avete visto prima dei magari doppi colpi eccetera ma me ne ha fatto uno in tutta la registrazione quindi veramente ottima batteria e detto questo basta stessa cosa anche il mixer lo trovate su strumentimusicali.net grazie mille a tutti per essere arrivati alla fine del video e noi ci vediamo al prossimo di video iscrivetevi al canale mi raccomando non mi sono dimenticato di vedere questo video vabbè pazienza ciao ciao